E' morto ieri sera poco dopo le 21 a causa di un attacco cardiaco il bidello di 55 anni arrestato nella tarda mattinata di ieri dalla squadra mobile di Pistoia su ordine del GIP Alessandro Buzzegoli e condotto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver molestato una studentessa a 16 anni nell'istituto pistoiese nel quale lavorava. Ieri sera, mentre si trovava nella sua casa dove viveva con i genitori, l'uomo si è sentito male. Sul posto è arrivata un'automedica e i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 55enne ma non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 21. L'accusa contestata al bidello era violenza sessuale ai danni di minori commessa all'interno di un istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. Le indagini che hanno preso spunto dalla segnalazione del genitore della ragazza e da quella della preside dell'istituto pistoiese sono state effettuate dalla sezione reati contro la persona in danno dei minori e reati sessuali della squadra mobile sotto la direzione del PM Claudio Curreli. Durante le investigazioni iniziate nel mese di marzo però erano stati raccolti vari elementi tra cui testimonianze e pregressi precedenti disciplinari per comportamenti molesti verso altre frequentatrici dell'istituto.